Gianluca Cilia del Genova Beach Soccer, non poteva iniziare meglio questo Super 8 quest'anno, due partite e due vittorie? Sì, siamo partiti col piede giusto, diciamo che ieri è stata un pochettino più dura, non ci siamo fatti oggi prendere dall'euforia di aver vinto contro i campioni d'Italia, abbiamo giocato un buon beach soccer vincendo contro una buona squadra. Genova che si è rinforzata rispetto all'anno scorso, l'anno scorso era riuscita a vincere pochissime partite, quest'anno molta esperienza in più in campo? Sì, l'esperienza fa la differenza, l'anno scorso eravamo un pochettino impreparati, quest'anno avendo fatto anche il torneo invernale, il torneo prima di venire qua, è servito parecchio. Tuo obiettivo personale in questo Super 8, da qui alla fine? Guarda, lo dico per il mio compagno di squadra Maesano, fare un gol su tiro libero, che ancora non ci sono riuscito.